Resta in carcere Andrei Feru, romeno di 52 anni accusato della morte di Catalina Bucatarula Iuliana, 38 anni, avvenuta a novembre scorso in un'abitazione di Colli, Monte Bove, frazione di Carsoli, in provincia dell'Aquila. Questa è la decisione dei giudici del Tribunale del Riesame dell'Aquila, che hanno così rigettato l'istanza presentata dal legale Paolo Frani dopo l'interrogatorio di garanzia in cui il suo assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere. L'uomo continua a dichiararsi estraneo ai fatti, sostenendo di non essere mai entrato nell'abitazione e dunque il suo legale ha annunciato l'impugnazione del provvedimento del Riesame davanti alla Cassazione. La donna è stata uccisa all'interno dell'abitazione dove assisteva come badante un anziano, è stata soccorsa ancora viva e trasportata in ospedale d'urgenza e morta due giorni dopo. Il fatto è avvenuto il 5 novembre dello scorso anno e all'inizio sembrava un incidente domestico, anche se poi le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo hanno raccolto elementi di prova sufficienti a far pensare ad un'aggressione. Decisive infatti sono state le analisi condotte dall'anatomo patologo, che ha riscontrato che il trauma non era legato ad una caduta, ma ad un'aggressione. Andrei Feru è finito in carcere il 10 di febbraio scorso in seguito all'indagine coordinata dal pubblico ministero della procura di Avezzano Maurizio Maria Cerrato. L'accusa per lui è di omicidio volontario.